Da venti minuti dalla fine siamo entrati in campo e la squadra è apparsa trasformata. Hai dato almeno tre palle e gol. Allora io dico, perché in questo mondiale il giocatore più in forma? Ma adesso, ormai è finita l'avventura mondiale del mondo. Siamo stati sfortunati ai rigori, c'è questa maledizione che ci perseguita. Per fortuna tu hai segnato, per fortuna tu hai segnato il gol, non è successo come... Lui è disperato, maaggio! Però ecco, quando gioca il giocatore meno in forma, io lo chiederei, l'ho chiesto già a Del Piero, Del Piero ha detto no, ma io... Chiedilo Baggio! Ma quanti parentesi ha aperto! È stato anche corretto, molto corretto Del Piero. La domanda si sta adormentando. Allora io chiedo a te, tu sentite tutta l'opinione pubblica che ero con te, dentro di te, adesso lo puoi dire, puoi fare una commissione, di meritare questo affetto, questa sperma, l'Italia calcistica che ti voleva in casa. Ma lascialo, ritorno! Basta l'hai fatta! Perché io non gioco? E faglielo dire! E io non gioco. Ma basta! Rispondete a testi di questa domanda. Lo lasci parlare? Sicuramente non so. È un po' curioso a casa, no? C'è un ragazzo sentito. Due ore. Basta! Ti vende a ridere. L'abbiamo posto a noi. Dopodiché salta il collegamento, Baggio non sente più nulla. Ma non ci crede. Non sento più.